pace e bene cari amici bentrovati siamo nella seconda domenica dopo natale e la chiesa ci ripropone il testo del prologo del vangelo secondo giovanni testo che già abbiamo incontrato proprio il giorno di natale perché questa scelta per aiutarci ad entrare più profondamente nel mistero che abbiamo celebrato maester eckhart diceva dopo il suo natale è tempo del mio natale cristo nasce perché io nasca nasca nuovo figlio di dio perché dio si fa uomo perché dio nasca nell'anima e l'anima nasca in dio con queste profonde parole entriamo nel testo cercando di cogliere un paio di punti che ci aiutino a vivere il santo natale giovanni ci dice che in principio era il verbo il logos che potremmo anche tradurre la parola o la sapienza il progetto il verbo era presso dio e il verbo era dio quindi sin dal principio abbiamo in dio una relazione di persone ci dirà la teologia una relazione di comunione dio e la sua parola il suo verbo la sua sapienza che altresì dio dunque abbiamo in dio una comunione un rapporto d'amore ci dirà la scrittura dio e amore partiamo da qui cosa c'è al principio di tutto la comunione l'amore il verbo sin dall'eternità in relazione con il padre ci rivelerà gesù nel suo farsi uomo dunque tutto nasce da questa relazione d'amore il mio principio il tuo principio il principio di ognuno di noi è l'amore questo punto è fondamentale perché se sbagliamo principio sbagliamo la nostra vita quante volte nella nostra vita incontriamo persone e magari noi per primi con problemi di autostima confusione esistenziale quante persone cercano il loro valore nelle cose che fanno e le mosinano il diritto ad esistere cercano e rincorrono tutta la vita uno sguardo d'amore di comprensione di accettazione da parte dei genitori quante persone quante persone hanno la spina attaccata ad un principio sbagliato chiedono ad altri ciò che invece già è dentro il loro cuore cosa voglio dire la scrittura ci annunzia che sin dal principio c'è l'amore nel suo farsi uomo cristo ci ha rivelato quest'amore infinito immenso che dio ha per ognuno di noi giovanni più avanti dirà e il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi e noi abbiamo visto la sua gloria già vi dissi altre volte che la parola gloria in ebraico è una parola con un ampio campo semantico significa valore peso specifico splendore sostanza come a dire nel suo farsi uomo il verbo la seconda persona della santissima trinità dunque dio ci rivela quanto valga chi sia davvero chi è dio amore qualcuno per il quale ognuno di noi io e te valiamo in un certo senso più della sua stessa vita dio è per noi colui che ritiene necessario dare la sua vita per salvarci dunque chi è dio questa potenza d'amore per me per te per ognuno di noi e chi sono io chi sei tu qualcuno per cui valga la pena dare tutto se stesso allora noi abbiamo bisogno di attaccare il cuore a questo beato principio di riscoprire come fondante fondamentale la relazione con dio questo testo ci annunzia la possibilità meravigliosa di accogliere quest'amore di accogliere questa parola che ci svela chi è dio chi siamo noi di accogliere la sua grazia nella nostra vita infatti proseguendo giovanni dice che in principio era appunto il verbo il verbo era presso dio il verbo era dio in lui era la vita e la vita e la luce degli uomini vita luce termini meravigliosi alla fine del prologo troveremo altri due termini grazia e verità che li potremmo accostare allora in questo verbo in questa parola eterna di dio c'è la vita cosa significa tutto questo noi viviamo un'esperienza nella vita quotidiana e cioè la vita c'è donata è un dono è un regalo che abbiamo ricevuto ma in un certo senso ci rendiamo conto che diciamo così la vita naturale non basta il nostro cuore è affamato di vita profondamente desideriamo una vita piena una vita non segnata dal male desideriamo essere amati fino in fondo e amare desideriamo vivere eternamente per sempre in fondo al cuore desideriamo essere come dio eterni beati felici pienamente da sempre l'uomo ha cercato di quasi raggiungere conquistare questa divinità di di far sua questa questa vita eterna bene il prologo ci annunzia che nel verbo in gesù è la vita e non una vita qualsiasi san giovanni non usa il termine bios che indica la vita naturale indica il termine zoe che significa la vita divina la vita eterna in lui abbiamo questa vita piena eterna beata che tutti quanti noi cerchiamo e nella fede in lui ci viene offerta quando è che sperimentiamo questa necessità di di vita di pienezza tante volte nei momenti dolorosi quando tutto va bene ci sentiamo spesso autosufficienti riduciamo dio così al deodorante da macchina che da giusto un po di profumo all'ambiente ma quando incontriamo ad esempio un crollo una malattia improvvisa che ci stende quando magari falliamo e sbagliamo pesantemente ci rendiamo conto che non siamo così bravi quando ci ritroviamo a fare conti con la difficoltà a perdonare qualcosa di serio che abbiamo subito è lì che ci rendiamo conto che non bastiamo il mito di atlante è quel mito greco dell'uomo che porta il mondo sulle sue spalle è fallace noi da soli non andiamo da nessuna parte esistenzialmente abbiamo bisogno di entrare in comunione con dio che ci comunichi se stesso la sua vita la sua presenza in noi altro è affrontare una malattia da soli con tutta la buona volontà possibile altre viverla affidati a lui certi che con lui diventa una strada un percorso di salvezza di santificazione altro è cercare di donarsi e di amare con le sole proprie forze altro è farlo per amore suo e in comunione con lui questo testo ci annunzia dunque questa vita che ci viene offerta e questa vita è la luce sì perché oltre a un desiderio di vita piena desideriamo luce desideriamo chiarezza desideriamo verità da quando siamo piccoli portiamo nel cuore le domande serie della vita ma chi sono da dove vengo dove vado chi rivela a noi stessi il mistero di dio e in un certo modo il mistero di noi stessi cristo vero dio vero uomo in lui possiamo accogliere la verità possiamo essere liberati dalle tante menzogne che abbiamo nella mente su dio su noi stessi è lui che ci insegna ad amare qual è la verità dell'amore perché ognuno pensa di amare a modo suo è lui che ci rivela cosa significhi amare e ci rende capaci di amare che meraviglia fratelli e sorelle nel natale abbiamo contemplato l'infinito il verbo eterno del padre in cui c'è vita e luce farsi piccino nella mangiatoia contempliamo l'onnipotente che si fa bambino la parola che non sa parlare che vagisce che necessita le cure di una mamma di un papà totalmente affidato nelle mani degli uomini nelle nostre mani così ancora oggi signore continua a venirci incontro a bussare al cuore di ciascuno di noi a farsi piccino nei sacramenti per entrare nella nostra vita e trasformarla a quanti lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di dio ha dato potere di diventare potremmo dire come lui partecipi della sua stessa vita ma tutto si gioca qui sulla possibilità di accogliere o rifiutare questa luce quest'amore questa grazia sant'agostino diceva il sole brilla su tutte le case ma può entrare all'interno soltanto se si aprono le finestre preghiamo che ognuno di noi possa davvero aprire il cuore a gesù accoglierlo e seguirne la parola per essere trasformato illuminato pace e bene a tutti